Germi, per esempio, veniva da casa nostra con una scatola di sigari e diceva che film si fa un pomeriggio, poi stava con sé Pinelli che gli dava sicurezza e si stava lì anche con lì in silenzio, ognuno sentivano i cervelli, poi nasceva un'ideina, la si collaudava anche per una settimana così e poi a un certo momento lui alzava un dito e tutti alzavano il dito e si buttava via, via di destra e ricominciava. Amici miei nacque da un… facciamo una storia di natura amicizia e ognuno… sono tutti amici nostri erano quelli lì, comuni. che… Grazie a tutti.